mi stanno impressionando mi stanno impressionando in una maniera veramente pazzesca ragazzi la fiorentina italiano sta vincendo 2 a 1 al maradona vengono al maradona pressing alti fanno loro gioco e che gioco ragazzi impongono loro gioco e per il momento vincono 2 a 1 al maradona ragazzi ovviamente anche il napoli stesso ha avuto le sue occasioni ma la fiorentina si sta meritando di portare a casa questa vittoria perché poi se vogliamo il napoli riesce ad accorciare a pareggiare inizialmente no su un errore comunque della fiorentina stessa e victor sman nel secondo tempo comunque ha avuto l'occasione pigliotta sempre per un errore la fiorentina stessa cioè se se la fiorentina non aveva queste sbavature io non so neanche se il napoli oggi segnava deve essere sincero mamma mia che fiorentina pazzesco tra l'altro fanno anche riposare nico gonzalez che entra solamente nel secondo tempo e sappiamo quanto è importante nico gonzalez ragazzi questa fiorentina qua se mantiene ritmi perché bisogna vedere poi a lungo andare se li mantiene con il fatto che comunque c'è anche tante tante competizioni può anche tranquillamente arrivare in champions perché quando tu vai al maradona e giochi in questo modo ragazzi chapeau chapeau veramente ma me l'italiano è sempre piaciuto come allenatore e oggi comunque subito partono forte con con questa rovesciata di di martine squarta poi ancora martine squarta su un cross con la coscia prende sto pallone la palla va sul palo poi c'è lì brecalo che si fiona sulla palla e vabbè da posizione angolatissima rifilatissima lì ragazzi meret da quell'angolazione se tu copi il tuo palo non puoi permettere che quella palla poi di brecalo ti passa sotto le gambe vada in porta per me quello è un errore clamoroso di di meret perché un portiere da lì non può prendere non può prendere quei gol lì non li può prendere ragazzi non li può assolutamente prendere dall'altra parte anche il napoli comunque attaccato ha avuto le sue occasioni terraciano ha fatto le sue parate e c'è un impiso di l'orubbio secondo me su suosi man martine squarta perché martine squarta a un certo punto su una rimessa laterale se non sbaglio si disinteressa completamente sul pallone salta ma vado solo di osi man e osi man cade per terra lì siamo al limite ragazzi è lì siamo al limite il vanno un po intervenire perché a quanto pare sta al giudizio dell'arbitro a livello di intensità per dare un rigore o no però lì siamo al limite poi arriva parisi che fa la cassoneria perché parisi a parte quell'errore può giocato bene però parisi ragazzi fa la cavolata retropassaggio sbagliatissimo verso terraciano osi man è sempre lì in guardia pronto a farti male anticipa appunto terraciano in uscita che prova a rimediare all'errore di parisi osi man si prende il fallo e si prende anche il rigore e se lo va a battere lui ragazzi va a battere osi man rigore cosa che non faceva fino alla scorsa settimana segna rischioso perché il trione era angolatissimo era anche a mezza altezza terraciano riesce anche intuire l'angolo ma non la para fatto sa che comunque osi man segna e osi man finalmente esulta come si deve quindi da questo punto di vista i napoletani possono stare tranquilli perché pace sembra fatta definitivamente e osi man riaggiusta riaggiusta la situazione poi comunque ha avuto anche il napoli qualche occasione il tiro di lobotka in progressione però era centrale quindi terraciano è riuscita a fare la sua parata qualche squillo di kvaraschelia di lorenzo anche ci ha provato nel primo tempo palla con cui terraciano fa la sua parata anche l'apoli è stato vivo ragazzi è un 1 a 1 molto bello gustoso e combattuto nel secondo tempo la fiorentina parte forte col palo di conè perché la fiorentina non sta a guardare sempre conè da schema da calcio d'angolo poi non inquadrà la porta arriva al tiro e pia comunque c'è la palla esce fuori di poco poi ragazzi arriva gol di buonaventura che che dire è un gol attenzione con la palla dei 3 a 0 della fiorentina e 3 a 1 la fiorentina ragazzi contro piede la viola parisi palla dentro per nico gonzalez nico gonzalez al gol ragazzi pazzesco 3 a 1 viola ma io sono impressionato io sono veramente impressionato impressionato proprio e stavo dicendo la fiorentina comunque attacca palla al piede in progressione c'è un rimpallo poi che favorisce la fiorentina di fortunata per poi la palla va proprio da buonaventura che in quella posizione ragazzi deve solamente praticamente mettere il piattone e appunto poi fare il gol fare il gol del del 2 a 1 ha rischiato il 2 a 2 la fiorentina o forse era eravamo ancora solo 1 a 1 fatto sa che comunque ha rischiato la fiorentina su quelle su quella rimessa tra i di caiode no caiode l'ha anche battuta abbastanza bene l'errore di ragazzi di milenkovich che invece andare incontro al pallone di accorciare aspetta che la palla arrivi arrivi da lui ma con uno con uno simen che minchia sui palloni proprio lui si fionda ci si lotta ed è velocissimo e ci arriva a piarti quella palla tu devi accorciare non puoi aspettare di avere il pallone tre piedi infatti poi così meglio forte il pallone meno che poi a tu per tu col portiere terracciano molto bravo a non scendere prima per terra rimane in piedi fino all'ultimo osimene prova a fare il piazzato ma terracciano gli dice di no e gli fa una pata clamorosa perché sennò quella occasione lì poteva passare cala la fiorentina perché se era su 1 a 1 se ne va sul 2 a 1 poi la bella io non so come sarebbe andata finita come sarebbe andata a finire poi ovvio se eravamo sul 2 a 1 comunque il napoli l'avrebbe ripareggiata eventualmente poi dopo il 2 a 1 ragazzi ovviamente simeone ha avuto un colpo di testa terracciano comunque la manda la manda in calcio d'angolo con la sua parata raspadoni che prova a servire simeone invece che tirare libero libero poi parisi lì fa un miracolo perché interviene e impedisce comunque questa cosa qua a simeone di poter di poter calciare la palla in porta toglie poi garcia osimene perché non si vuole sbilanciare troppo col fatto che ha messo simeone poi tutto toglie osimene ma ragazzi io se sto sotto lo ripeto se io sto sotto e sto perdendo uno come osimene non lo perdo mai perché secondo me ti può in qualche modo sistemare i problemi invece no ha tolto osimene che però stavolta non protesta quindi ha accertato anche lui la sostituzione e poi ragazzi arriva questo contropiede qua napoli sbilanciato che prova appunto a tutti i costi prova a prendere il pareggio e niente ragazzi contropiede la fiorentina parisi sulla fascia palla dentro per nico gonzale se nico gonzale si trova il gol è qualcosa di eclatante ragazzi fiorentina che mi ha sbalordito veramente sono rimasto stupito da questa viola una squadra poi contro coglioni l'anno scorso è arrivata in finale di conference quest'anno non sono partiti bene in conference ma in campionato stanno facendo qualcosa di di pazzesco veramente di pazzesco un zola ha toccato pochi palloni però ha combattuto e lì davanti da solo ha fatto un po di fatica però buonaventura più invecchia più sembra che ragazzi diventa un giocatore eccezionale meritata la convocazione di giacca buonaventura nazionale quattro gol in campionato e se non sbaglio due o tre assist anche di cosa stiamo parlando di cosa stiamo parlando è finita in questo momento ragazzi fiorentina batte napoli 3 a 1 al maradona pazzesco 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 anche artur ragazzi io che sono rimasto impressionato anche da artur melo ragazzi ma io me ne immaginavo ragazzi che con italiano lo dissi quando ci fu l'operazione di mercato artur con un gioco con quello italiano può fare molto bene può fare molto molto bene e infatti artur è un giocatore di calcio ragazzi artur è un giocatore di calcio con l'italiano e la fiorentina è sempre stato gioco di qualità solo che con la juve giustamente purtroppo chissà come mai i nostri giocatori non riescono mai a giocare però artur è un giocatore di calcio cioè è fondamentale per questa fiorentina anche lui il gol è regolare lo stanno facendo vedere adesso di rico gonzales è finita ragazzi pazzesco la fiorentina è quarta se non sbaglio adesso in classifica devo andare a controllare poi ma mi sa che la fiorentina è quarta devastanti io direi che vi lo può finire qua quindi se vi piaccio cerci un bel like mi raccomando commento commenti fate sapere cosa è pensato appunto di questo privato da napoli fiorentina di proposto che sono nei commenti e soprattutto ragazzi anche se piacere di iscrizione al canale che poi non costa nulla e per me vuoi trovare il suo supporto basta che clicca su iscriviti e siete iscritti sono fatti un grazie di cuore condividete anche il video con i vostri amici di schiena di loro e attivate la campagna notifiche così non perdete questo video che usciranno in descrizione avete anche il link del bar di fosi channel e anche il link degli altri miei profili social qui da me che è tutto ragazzi bella pazzesco